E allora fuori la noce per la squadra 27.0 per l'Italia, l'Olimpia e l'Irò! Il numero 5, Gradi Rizzo, 9, Martans, 3, 10, 15, 4, 3, 13, Simone, Montecchio, 20, Andrea, 5, 6, 22, Marco, Pugin, 23, Abadou, Avalas, 24, Avalas, Maie, 25, Jonathan, Viro, 34, Guavini, Jeff Persson, 25, Dainis, 40, 77, Artura, Udaidi! Grazie! 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 Grazie!